30 carabinieri in più solo per la città di Bari. Hanno appena terminato i corsi, sono giovani, organizzati per un servizio anticrimine e sono già in azione le forze dell'ordine in più previste dal ministro degli interni Matteo Salvini. Un rafforzamento della presenza dello Stato richiesto dal prefetto di Bari Marilisa Magno a seguito di episodi di crimine che avevano generato molta preoccupazione in città. Ad annunciarlo questa mattina il parlamentare della Lega Rossano Sasso e i consiglieri comunali Michele Piccaro e Fabio Romito. La bella notizia è che in realtà sono arrivati la scorsa settimana però noi aspettavamo l'ufficialità e volevamo a scansio di cui voci capire se fossero soltanto utilizzati quindi in via provvisoria. No, ci sono 30 carabinieri in più per la città di Bari, per la sicurezza dei baresi. La città di Bari chiama, la Lega e Matteo Salvini rispondono. È venuto qui soltanto qualche mese fa il ministro a garantire alla città di Bari più sicurezza, più controlli e un'attenzione preminente da parte del Governo della Repubblica Italiana. Così è stato e rispetto agli altri politici che annunciano, promettono e molto spesso dimenticano, Matteo Salvini ha fatto esattamente il contrario. Non ha annunciato assolutamente niente, si è mosso in maniera determinante e grazie a lui e grazie alla Lega e ai deputati della Lega Bari avrà 30 carabinieri in più. 30 angeli custodi che potranno garantire sicurezza alla città di Bari e potranno dare un messaggio forte e chiaro a tutti quelli che qui credono di poter delinquere e di poter fare quello che fino ad oggi hanno fatto indisturbati. La musica sta cambiando, con il Governo la musica cambierà definitivamente e soprattutto se gli amici del centrodestra ci daranno l'opportunità con le primarie di scendere un candidato sindaco della Lega, la musica cambierà definitivamente. Matteo Salvini ce lo ha dimostrato e continuerà a darci tangibile dimostrazione della sua attenzione per Bari giorno dopo giorno. I carabinieri saranno sparsi praticamente in tutta la città dalle periferie di cui parlerà Michele Piccaro ai punti nevralgici della nostra città, Piazza Umberto su tutti ma anche le piazze delle periferie che fino ad oggi erano controllate in maniera assolutamente insufficiente. Sono 30 ragazzi giovani con molta voglia di lavorare e voglia di mettersi a disposizione dei cittadini. Abbiamo soltanto un obiettivo, quello di ridare a Bari la dignità, la sicurezza e il decoro che per troppo tempo abbiamo dimenticato. Una grande attenzione e sensibilità è stata prevista per le periferie, anche con Sua Eccellenza il Prefetto abbiamo parlato del problema del distacco dal centro della città ed è stata garantita la possibilità di riattivare il servizio del carabiniere di prossimità. Noi avremo l'opportunità di poter percepire la sicurezza con la presenza costante di questi carabinieri nelle piazze e nei giardini che sono stati abbandonati da questa amministrazione. Questa è una risposta forte, 30 carabinieri non si vedevano da molti anni nella città di Bari e proseguiremo sotto questo aspetto insieme alla Lega, al nostro deputato e al nostro ministro a che Bari torni ad essere una città sicura.